Lo scopo dell'associazione è la divulgazione delle caratteristiche dei prodotti a indicazione geografica protetta. Non ci limitiamo a valorizzare esclusivamente i prodotti dei nostri soci, che sono il Taleggio, il Provene Valpadana e il Salva Cremasco, ma anche quelli che hanno la particolarità di essere garantiti da sistemi di protezione comunitaria. Noi ci occupiamo di diffondere la conoscenza delle caratteristiche del prodotto presso il pubblico e presso gli allievi delle scuole e lo facciamo direttamente nella nostra sede con incontri di approfondimento nei quali spieghiamo il prodotto, le sue caratteristiche e l'utilizzo in cucina. Dopo una breve presentazione della scaletta, prende la parola l'invitato che in genere è il responsabile di un consorzio di prodotti ovviamente a indicazione geografica, spiega le caratteristiche del prodotto, il prodotto poi viene fatto assaggiare e con la collaborazione di uno chef ne facciamo due o tre preparazioni alimentari per garantire che il prodotto è sì da gustare puro, come si può dire, ma anche in preparazioni alimentari specifiche.